Bene amici, unboxing molto diverso dal solito e devo ringraziare ma con un cuore gigante così Paolo e suo amico Andrea perché qualche tempo fa mi hanno scritto Caro Andrea, ho uno scatolone di telefoni vintage che vorrei darti Io ho detto ma grazie, grandissimo, va bene E quel momento e quello scatolone è arrivato Qua dentro c'è buona parte della storia della telefonia Magari non dagli albori, magari non dagli etax Ma io adesso pescherò, unboxerò e magari vi racconterò aneddoti Per esempio il primo telefono che tiro fuori Un telit, un barfon Ma voi lo ricordate? Il telefono dei gormiti quando lo avevo acceso con quella suoneria incredibile l'accensione Gormita, unisciti al signore della terra nella lotta contro il male Mamma mia che ricordi E poi stavolta sotto, ma tra l'altro come sono tenuti bene Tutti imbustati, inscatolati No, vabbè Questo è il Sony Ericsson Walkman Se non sbaglio W950 Aveva sistema operativo Symbian Touch Lui è di quel periodo del P990, P900 Con questo sistema operativo Ovviamente il display era Touch Ma c'era qua di fianco la rotellina E la penna Mannaggia Paolo, hai perso la penna Perché aveva il pennino E tra l'altro, aneddoto Quella serie di Symbian era tra i telefoni Che aveva un riconoscimento della scrittura incredibilmente preciso Come vedete È fluida E il riconoscimento del carattere è veramente, veramente buono Nooo, ho pescato a casa e non avevo visto 7110 di Nokia Con il flip che era attivo Tra l'altro della Omnitel Ormai Vodafone, che ricordi Questo è stato il primo telefono con il WAP Quindi con l'accesso a internet Con questo browser che aveva Dove si poteva andare a navigare Sui primi siti fatti apposta E qua vabbè, vi confesserò una cosa Lo utilizzavo, non so perché Non chiedetemi perché Ma sotto le coperte Per andare a chattare le chat Le prime amicizie virtuali online Non chiedetemi perché sotto le coperte Cioè non facevo nulla di strano Nulla di trascendentale Però c'era quel, non so, quell'essere a casa un po' in un luogo Perché poi, cioè, allora, ovviamente i siti, i video, queste cose qua Non c'erano qua al massimo Erano tutti i pixel Avete presente come le due barrette all'inizio di videogioche Con la plena faccia, bam, bam, bam Ecco, lì c'era in Don D Potrei raccontarvi tante cose su Samantha Fox Street Poker 16 pixel per 16 pixel Quindi immaginatevi che cosa si poteva vedere Ma quanto si poteva fantasticare Mamma mia, che bei tempi d'ora E poi qua, cosa c'è? Vediamo un po' Un Windows Oh, Windows Mobile iMate Jack 3 Ho avuto anche questo Anche lui touch Con la tastierina fisica Gli si potevano installare le applicazioni Perché, ragazzi, l'ho detto tante volte Lo dico un'altra volta iPhone non ha inventato nulla dal punto di vista delle applicazioni C'erano già Ma era molto complicato fruirne Cioè, non c'erano gli store di applicazioni O meglio, c'erano Ma bisognava andare a comprare online Gli XS Caricarli Installarli Insomma, era da veri smanettoni Utilizzare le applicazioni Il NEC Questo è uno dei primi videofonini Questo, tra l'altro, è uno di quei telefoni Con cui tre è arrivati in Italia L'altro era il NEC E606 Il Paninazzo E poi lo Sharp No, lo Sharp Era invece Vodafone Era uno dei primi telefoni con display a colori Questo uno dei primi telefoni UMTS Quando c'erano ancora tanti form factor Tra l'altro, quando i telefoni erano sostanzialmente indistruttibili E poi, qua dentro, vediamo un po' che cosa peschiamo Un altro telefono di tre Questo però è venuto un po' dopo Un altro NEC Sempre, però un po' più piccolino Un po' più compattino Non è uno dei primissimi Tra l'altro, antenna fissa Quando i telefoni avevano ancora le antenne Per andare a migliorare la ricezione Adesso ricevono meglio, ricevono peggio Bah, sta di fatto che le antenne ormai sono tutte integrate Secondo me Paolo era un cultore di tre O un rivenditore di tre Perché c'è un altro NEC di tre Qua le 228 Anche questo videofonino Perché tre è arrivato in Italia La prima compagnia con UMTS Nooooo 66, 30, saponettone ragazzi Nokia con Symbian Questo è uno dei Nokia più venduti in assoluto Vabbè ve lo dico Vi confesso Ero un autoricaricatore nella mia infanzia Cosa voleva dire? Conoscendo bene il mondo Delle tariffe Andando sui forum Sgamando Avevo delle sim Che chiamandosi Praticamente si autoricaricavano Magari profili a tariffa illimitata da una parte Tariffa autoricaricante dall'altra Questo era perfetto Perché lui aveva Non solo delle applicazioni Che potevano essere installate Che facevano chiamare automaticamente Ma aveva anche la risposta automatica Quindi una serie di questi telefoni Che si chiamavano E si rispondevano Ma quante cose vi sto confessando Vabbè ormai i reati sono prescritti Perché Ma a parte che non era neanche un reato Io facevo tutto legalmente Ma Oh Attenzione Questo Motorola A835 Se non mi sbaglio Ha anche lui Di Di 3 Un bel mattone Questo lo davano con un abbonamento A due soldi Quindi era uno dei telefoni più Gettonati di H3G E poi qua Un Sagem Sempre di 3 Senza infame Senza lode Questo non me lo ricordo nemmeno Quindi Magari ha qualche particolarità Ma Non Non me la Non me la ricordo Non mi sovviene Vediamo cosa c'è qua No Attenzione Attenzione Lui è Il P Non mi ricordo se è il P900 Il P990 Mannaggia Mi sfugge questa cosa Forse è il P990 Però Cosa aveva di particolare Stesso software del V950 Visto prima Symbian Suo nonno È stato quel P800 Dal quale poi Iniziò tutto Praticamente Perché Le amicizie Sui forum Anche con Luca Il Bordons Con altri personaggi Che poi hanno Magari fondato blog Siamo un po' divisi Siamo un po' persi Ma Lo zoccolo duro Degli appassionati È nato Praticamente Dal in Italia Aveva due particolarità La prima Che aveva il flip attivo Quando si apriva Ovviamente lo schermo Si illuminava completamente Ed era anche lui Touch Col pennino Ma guardate qua La pateletta Da questa parte I tasti numerici Da questa parte La tastiera Alfa numerica Quindi Querti Quindi quando era aperto Si teneva così Si digitava Si scriveva E poi lo si chiudeva E si sfruttava La parte superiore E poi Il Jogdeal Che è stata Un'invenzione Di Sony Mi sembra che anche Il Philips Genie Ce l'avesse Forse è arrivato Prima il Philips Genie O forse no Non mi ricordo Il Philips Genie Fantastico Con il suo Microfonino A scomparsa Comodissimo Perché si muoveva qua E si muoveva nel menu E si poteva usare Il pennino Veramente super comodo Tra l'altro Con l'espansione Di memoria Qua di fianco Tra l'altro Attenzione C'è dentro anche Un'espansione di memoria Eccola qua La SanDisk Memory Stick Pro Duo Da ben 32 GB Che per allora Erano veramente Tantissimi 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 Bello Su questo Ha veramente Tanti tanti Ricordi Super positivi Super Il Blackberry Il Blackberry Questo Se non sbaglio È il Curve Va da memoria Non uno degli ultimissimi Non il primissimo Ragazzi Spero che qui dentro Ci sia il Bold L'8000 8800 Non mi ricordo la sigla Che fu Uno dei telefoni Il primo Vero smartphone Con la posta push Con un sacco Di possibilità Che io ottenni Mi ricordo ancora 9 mesi 10 o 9 mesi Veramente L'ottenni tantissimo Perché con il telefono Mi piaceva tantissimo La rotellina Gli ultimi avevano poi Il pad Ottico Un po' Quei pad Che adesso Alcune case automobilistiche Mettono sui volanti Per comandare Gli infoteme Mercedes su tutte Beh Una volta era qua Per comandare Il software Questo aveva Un audio bestiale Anche una recezione bestiale Si sentiva Benissimo Aveva delle funzioni Smart Non male Z1010 Z1010 Soprannominato Il paninozzo Io per questo telefono Ho fatto carte false In realtà ho fatto di peggio Per il P800 Il mio primo smartphone Vero Ma Questo Vi dico Era il primo UMTS Di Sony Ericsson Sony Ericsson Allora era una marca Super in auge Perché faceva telefoni Veramente innovativi Veramente avanti Come il P800 Poi è arrivato il T68 Il primo telefono Con display Con un po' di colori Mi sono a 256 Perché il primo È stato il Siemens S4 Con quattro colori Vabbè E lui mi ricordo Era uno dei primi Da poter comprare No brand Quindi non brandizzati Dall'operatore 3 Che era l'unico appunto UMTS Quindi mi ricordo che Quando arrivò Fu una gioia Guardate che super spessore Cioè altro che i foldable di oggi Questo era veramente Ha sobrato il panino Non a caso Cosa pesco adesso? Un HTC HTC Altra società Desaparecida Probabilmente Io questo modello Non mi ricordo Se l'ho avuto meno Probabilmente Ha Windows Phone Sicuramente Perché c'è il tasto Home Pensate gli smartphone Come erano piccoli a volta Cioè qua dentro Girava Windows Phone Mobile C Insomma ha avuto Vari nomi Windows Anche per quello Secondo me non si è mai affermato Perché non si capiva Una fava Di quale Windows Avesse a bordo Un telefono Però questo Secondo me non è touch Si muoveva col jog E col tasto Home Quando HTC Dal punto di vista smartphone Era veramente Super super avanti Eccolo qua L'altro Il fratello Allora forse Questo è il P900 Perché questo è il P990i E vedete La differenza Che qua Il tastierino fuori L'alfanumerico E quello Querti Era messo dentro Quindi non Nella pateletta Tra l'altro Implementata meglio La fotocamera Anche lui TV di tre Cioè tre Butto via E si può dire Butto via Aveva tanti soldi Allora Era entrata sul mercato A gamba tese Era il giochino Di Hutchinson Wampo Una società Di Hong Kong Se non sbaglio Che faceva tutt'altro E Butto via Un sacco di soldi Per fare Studi televisivi Ripetitori La tecnologia Era il DVBT Se non sbaglio Quindi il digitale Terrestre Però per cellulari E E niente Questo era Uno di quei telefoni Vedete qua Con il tasto TV Con il quale Si poteva ricevere Proprio la televisione Perché non fece successo Albori Troppo presto Display un po' piccolini Cioè immaginatevi Guardare qua la partita Mi ricordo che Se non sbaglio Spesero anche un sacco Di soldi Per acquisire I diritti Per le partite Di calcio E E lì Per guardare una partita In quel displettino Niente No way Non ci siamo Qua Un Sajem T22 Diciamo che Nella collezione Sì vabbè Carino Ma Nulla di che Vediamo un po' Mamma mia Ma che cosa c'è Qua dentro Nokia Forse questo è L'N72 Secondo me Qualcuno di voi Ce l'ha ancora N70 Eccolo qua Questi erano telefoni Che non si rompevano mai Anche lui Con Symbian Con la fotocamera Coperta Dalla Pateletta E Com'è strana La storia Cioè io sto tirendo fuori Telefoni Di matrice Sostanzialmente europea Nokia Nord europea Finlandia Sony Ericsson Nippo Europea HTC Htc ok Coreana LG Coreana Però qua Di cinesi Pensate adesso Come è cambiata La storia In motorola Quindi americani Ops È scivolato qualcosa Il neccone Anche lui di tre Quando c'era la moda Di fare la cam Rotante Per far sì Che si potessero fare le foto Con la camera anteriore O con la camera No con la camera Con la stessa camera Ma davanti O dietro E come è cambiata La sfera Della Della telefonia Nel mondo No attenzione Attenzione L'ottant Tipo 8110 O qualcosa del genere DLG Anche qua Confesso un altro reato Completamente Prescritto Tempi dell'università Pochi soldi Voglio uscire Fare benzina la macchina Non mi ricordo Se avessi avuto ancora Già la macchina Forse sì Vabbè Comunque Mi ero comprato Su internet Ovviamente Con il modem Analogico La scatoletta Per sbloccare Gli LG D3 Praticamente Era un apparecchietto Che si programmava Si trovavano le roma Anche qua Online I forums Manettoni Eccetera Eccetera E questi telefoni Erano sovvenzionati Tra l'altro Non è verde Ma qua c'erano ancora Sulle plastichine originali Guardate Guardate No forse era verde Ma comunque Sono sulle plastichine originali Paolo Grande Grande Con i telefoni quasi nuovi E si pagavano poco Collaboramento Tipo Boh 80 90 euro Forse era ancora in lire Non mi ricordo Io con Forse era euro 10 euro Sbloccavo questi telefoni Quindi non se lo compravo in abbonamento E poi potevo usare Qualsiasi altro operatore Non ero l'unico a farlo Non ero l'unico a farlo C'erano anche tanta gente A farlo Ma mi ricordo Che con questo giochino Riuscì a Pagarmi da solo Gli studi Un paio d'anni Di vacanze E mamma mia Tempi veramente Super divertenti Da super nerd E super Smanettone Sony Ericsson Sui mini N95 mini Forse non mi ricordo come fosse Era ma guardate le dimensioni di questi telefoni Quanto erano piccoli Cioè io con le mie dita riuscivo a scrivere benissimo Mettevo lì Scrivevo Messaggiavo Chattavo Ci facevo di ogni C'erano le prime suite di configurazione Di sincronizzazione Chi se la ricorda La mitica Nokia suite E quando arrivarono le suite Cambiò un po' tutto Perché prima su questi telefoni Bisognava Rimpostare tutto Rimettere i numeri Manualmente La rubrica Inserire Mamma mia Era veramente un delirio Quando arrivarono invece le suite Cambiò un po' Tutto E poi Oh che bello C'è anche un Siemens Tra l'altro Siemens Peccato che non ci sia L'SL45 Mi ricordo Fu il primo telefono Con il lettore di MP3 Con le memorie esterne In cui si poteva Iniziare ad ascoltare La musica Adesso ascoltare musica In Eritrea È una roba arcaicissima Ormai si utilizzano I servizi di streaming Ma allora è una roba Avantissima E da quando iniziarono A uscire questi telefoni Steve Jobs Nella sua testa Iniziò a pensare Caspita Il mio iPod Sta per morire E da quello Scattò la voglia di Apple Di iniziare a costruire Un telefono Proprio per salvare Un po' l'iPod Che iniziava Ad avere Qualche Non crisi Perché vendeva tantissimo Ma iniziava a vedere All'orizzonte Degli strumenti Più smart Per ascoltare La musica Un altro telefono Di tre Probabilmente un altro LG Molto simile a quello Precedente Poi qui Cosa c'è Ah Il videofonino Perché poi anche Altri operatori Seguirono Il Iniziale successo Poi in successo Era più Hourness Era più Una gara Da cielo durismo Da operatori telefonici Perché poi Anche Vodafone Fece il suo videofonino Sempre in collaborazione Con LG Eccolo qua Con l'antennone Praticamente vedete Uguale Tra l'altro Aveva anche la cama Anteriore Perché grazie Al 3G Si iniziarono A poter fare Le famose Videochiamate E poi Poi l'X1 Che praticamente Era l'antesignano Di X2 Io sto tirando fuori qua Come se fosse normale Ma sto tirando fuori Dei pezzi di storia Pazzeschi Pazzeschi Eccolo qua X1 Guardate Sony è sempre stata Molto attenta al design Guardate che bel design Aveva questo Smartphone Tra l'altro Mi ricordo ancora L'Arc Sony era Xperia Arc Che era il primo Telefono Ad essere Arcuato In maniera particolare Si teneva in mani In maniera particolarissima Era molto molto sottile Mi ricordo che quando Andava in ricerca Rete scaldava Come una bestia Ma era un telefono Fantastico E poi Qui cosa c'è Un altro Oh Il cioccolà Di LG L'U960 Quindi un altro Videofonino E Attenzione Attenzione A due chicche Non tanto questa L'E61 Perché poi iniziò L'era dei businessmen Peccato che non ci sia dentro Il Blackberry Bold Perché quello Veramente Allora Il Blackberry Bold Io l'ho tenuto tanto Come ho detto prima Ma l'ho anche moddato Addirittura ero così nerd Che avevo comprato Da qualche parte Non mi ricordo più Sul web Un trackpad Nero Avevo sostituito Il mio bianco Ed era l'unico bold Col trackpad nero Ma qua dentro C'è Lui non è l'antesignano Perché sarebbe Il 9005 Communicator Il 9003i 9003i Mi ricordo ancora Avevo un altoparlante Pazzesco Ma lui è L'E90 E90 Altro telefono Che era Super ricercato Mi ricordo Io passai A un abbonamento Che costava un sacco Business Di 3 Proprio perché Allora avevo il 3 Io volevo sempre Essere un po' avanti Anche con gli operatori 3 Prima a portare MTS Che mi dava questo telefono A non tanti euro al mese Avevo cambiato profilo Guardatelo Guardate questo Communicator Tastiera ampia Si scriveva Benissimo Ovviamente Si richiudeva Cioè quanto faceva figo E quanto faceva business Aprirlo Iniziare a lavorarci Qua sopra Scorciatoie Desto Brubdipa Messaggi Internet Note Agenda Preferiti E scrivere Da qua Con un bel display Grande E poi chiudere Usarlo tutti i giorni Così sempre con Symbian Symbian è morto Tanti stimi operativi Che abbiamo visto qua Blackberry è morta E adesso è il trionfo Di un'altra generazione Io guardo sempre avanti La vita Gli smartphone Ce l'hanno cambiata Come dico sempre Ormai sono diventati Una finestra Sulla Nostra vita Perché ormai Tramite smartphone Andiamo in banca Andiamo in posta Scaldiamo Raffreddiamo la mano La macchina Ci controlliamo Il timer Della pasta Insomma ci facciamo Veramente Tutto Ma L'appiattimento Che c'è Oggi Sui four factor Che si sta un po' Risvegliando Con i foldable E mi piace questa cosa Una volta Non c'era Guardate che diversità C'era E quanto mi divertivo Già allora A provare Telefoni Che figata Paolo e Andrea Grazie Mi avete reso Veramente Felice E scusate se vi ho inondato Di questa Maria di ricordi Un po' di storie Di andrea Galeazzi Punto com Ciao Ciao